Gentilissimi ascoltatori, buonasera e benvenuti alla quarta puntata del programma radiofonico podcast letterario Bibliofili. Allora, gentilissimi ascoltatori, anche questa sera saremo presenti su Twitter, su Periscope, attenzione un attimo soltanto, mi stanno per raggiungere i vari ospiti, sto dicendo che anche questa sera siamo presenti sia su Twitter, sia su Periscope e anche su Radio Antidoto, la radio nata nel periodo di questa quarantena per poter fare compagnia a tutti coloro che sono isolati a casa. Nel frattempo ci ha raggiunto Costanza, buonasera Costanza. Buonasera, mi sentite? Una delle nostre ospiti, Costanza Rizza Casa d'Ortonia, nel frattempo stanno anche per collegarsi le altre due ospiti. Sì, ti sentiamo Costanza, ti sentiamo. Tra poco ci sarà anche Sara Rattaro, manca poco, ci sarà anche lei. Salve Enrico, buonasera. Ciao Sara, ciao. Vedo alcune persone. Eccoci, buonasera. Buonasera, ciao Sara, ci senti? Io sì, vi sento benissimo. Perfetto, noi ti sentiamo molto molto bene. Perfetto, aspettiamo l'ultima ospite della serata, Desi Icardi. Tra poco dovrebbe raggiungerci. In ogni caso stavo dicendo, prima che voi vi collegaste, che questa, ecco l'attenzione sta anche raggiungendo, ci sta per raggiungere anche Desi Icardi, tra pochi secondi, stavo per dire che questa puntata sarà dedicata prevalentemente al grande autore contemporaneo che purtroppo ci ha lasciato esattamente 14 giorni fa, ovvero Luis Sepulveda che purtroppo è morto il 16 aprile a causa del coronavirus. Ecco che ci ha raggiunto anche Desi Icardi. Ciao Desi, buonasera. Mi sentite bene? Sì, sì, benissimo. Ciao. Mi sentiamo benissimo. Perfetto. Allora, siete state veramente puntualissime. Grazie mille. Queste tre puntuali e a questo punto direi di presentarvi, direi di passare alle presentazioni e poi di passare ovviamente alla tematica principale di questa sera, ovvero le vostre impressioni, le vostre idee, la vostra memoria di questo grandissimo autore contemporaneo che purtroppo ci ha lasciati appunto due settimane fa precise. Allora, inizierei con la presentazione di Costanza Rizza Casa d'Orsogna, che è laureata in scrittura creativa alla Columbia University di New York. Attualmente scrive sul Corriere della Sera e sul supplemento culturale La Lettura. Inoltre tiene sul settimanale 7 la rubrica Any Body, ogni corpo vale. Accurato, storia di mio padre, di Stefano Cagliari, pubblicato con la casa editrice Longanesi, sulle vicende dell'ex presidente Eni Gabriele Cagliari e ha collaborato ai saggi di Antonio Polito Prove, Prove Tecniche di Resurrezione e Riprendiamoci i nostri figli, entrambi pubblicati con Marsilio Editore. Nel 2018 ha pubblicato la favola di successo, storia di Milo, il gatto che non sapeva saltare, pubblicato con Guanda Editore, stasera ne parleremo di questa favola. Ed è tradotta in vari paesi. Inoltre a gennaio 2020 è uscito, è stato pubblicato sempre da Guanda Editore, il suo primo romanzo, Non superare le dosi consigliate, che è andato esaurito in un solo giorno ed è diventato un caso mediatico. Anche per non superare le dosi consigliate ne parleremo stasera nella seconda parte della puntata. Passerei adesso alla presentazione di Desi Cardi, la quale è una formatrice aziendale, scrittrice, cabarettista e copywriter. Laureata al Dams di Torino in teatro d'animazione, dal 2006 calca i palchi di Caparè con lo pseudonimo La Desi. Inoltre in questi anni ha firmato numerosi testi teatrali e alcune regie. Attualmente è impegnata con un monologo tragicomico dal titolo I diari del bastone bianco, nel quale racconta la sua esperienza di povedente. Confazzi Editore ha pubblicato l'annusatrice di libri nel 2019, è stato già pubblicato, è stato già tradotto in quattro lingue ed è stato anche finalista al European Union Prize for Literature e nel 2020, esattamente a febbraio, due mesi fa, è stato pubblicato sempre con Confazzi Editori e la ragazza con la macchina da scrivere e questo ultimo romanzo ovviamente ne parlerà Desi nella seconda parte della puntata. Passiamo adesso alla presentazione di Sara Rattaro, la quale è una scrittrice pluripremiata e una docente plurilaureata e specializzata nel campo della comunicazione. Nel 2009 realizza il suo primo romanzo sulla serie sbagliata e viene pubblicato dall'editore Mauro Morellini. Nel 2012 viene pubblicato da giunti editori il suo secondo romanzo, Un uso qualunque di te, che è stato tradotto in ben nove lingue. Dal 2013 inizia una collaborazione con Garzanti Editore, con la quale con questa case editrice ha pubblicato Non volare via, niente come te, inoltre hanno curato la ripubblicazione del suo primo romanzo e hanno pubblicato anche Splendi più che puoi. Dal 2017 ha iniziato a pubblicare romanzi per i ragazzi ma soprattutto ha avviato una collaborazione con la casa editrice Sperling e Caffer, con i quali ha pubblicato L'amore addosso, Uomini che restano, fino ad arrivare alla giusta distanza pubblicato a gennaio del 2020. E anche di quest'ultimo romanzo ovviamente Sara ce ne parlerà nella seconda parte di questa puntata. Allora, abbiamo completato le varie presentazioni, dunque alle 21.36 possiamo dire che la quarta puntata di Bibliofili è ufficialmente iniziata. Allora, come ho già detto prima ad inizio puntata, la tema di cui si parla sarà la memoria di Luis Sepulveda che purtroppo ci ha abbandonati nel circa 14 giorni fa. Dialogherò con le mie ospiti, rifletteremo sull'importanza di quest'autore contemporaneo, su ciò che ha dato alla letteratura contemporanea. Allora, a questo proposito inizierei da Desi e ti chiedo, Desi, secondo il tuo parere, quale ruolo ha avuto Luis Sepulveda nel corso di questi anni, considerando anche che è stato un attivista politico, è stato pure incarcerato dal governo Pinochet, se non mi sbaglio, e poi comunque è stato un giramondo, ha girato per tutto il Sud America e ha girato pure per l'Europa, è stato in Germania, in Francia, tra l'altro è pure naturalizzato francese, è stato intervistato tantissime volte anche da molti giornalisti italiani e poi ovviamente si è stabilito definitivamente in Spagna. Dicci tutto, Desi. Ma allora, come dicevi tu, io non mi sento in grado di parlare del ruolo di per sé che abbia avuto nella letteratura. Quello che è negabile è che anche in vita lui è comunque un pezzo di storia. Appunto, come dicevi tu, è stato incarcerato dal governo Pinochet, si trovava proprio nel palazzo di Allende, dove Allende fu ucciso, è stato incarcerato, è stato sette mesi in una cella dove non poteva neppure stare in piedi, quanto era piccola, è uscito di lì, ha continuato a fare l'attivista, finché poi ha avuto una condanna all'esilio. E detto ciò, è comunque un personaggio controverso, particolare. Ad esempio, quando se ne andò dal Sud America la prima volta, lo fece per andare, se non sbaglio, in Svezia a insegnare spagnolo, è arrivato in Spagna, scappò, decise che no, non faceva per lui e iniziò, come aveva vagato nel Sud America, iniziò a vagare per l'Europa, finché poi, appunto, come hai detto tu, lui aveva la cittadinanza francese, mi pare. E quindi, diciamo che di fronte a biografie del genere, la scrittrice come me si sente un po' in soggezione, perché comunque questa vita di per sera è stata un'opera d'arte. Cioè, quando leggi di persone del genere, dici sì, ma io nel mio piccolo cosa posso dare, cosa posso dare quando ci sono persone che hanno una ricchezza di vita tale, poi condivisibile, non condivisibile, perché poi comunque era uno scrittore schierato politicamente, quindi uno può anche pensarla all'opposto, ma ti viene da dire quale ricchezza una vita del genere poi può essere trasmessa in letteratura e lui l'ha trasmessa in migliaia di modi, anche nel teatro, poesie, racconti, una produzione pazzesca, però è spiegabile quante ispirazione poteva arrivare da quella vita. Poi lui è stato un attivista anche nell'ultima parte della sua vita, è stato un attivista di Greenpeace, per esempio. E io quando appunto mi approccio a personaggi del genere mi sento veramente minuscola, perché io non farei mai nulla del genere, ma lo ammetto tranquillamente, perché non ho quella tempra, non ho quella forza, non ho la forza di diventare storia mentre ancora sto vivendo come ha fatto lui. Beh, diciamo che ha avuto un'intensa vita e anche un'intensa produzione letteraria, quindi è veramente un gigante della letteratura contemporanea. Sì, poi nasce anche da una dinastia di persone così, già suo nonno si era rifugiato dalla Spagna al Sud America per motivi politici, suo padre e sua madre, idem erano, lui pare sia nato se non sbaglio in una camera d'albergo perché i suoi genitori erano in fuga dopo una denuncia. E quindi oltretutto è anche una dinastia, diciamo, quasi fosse il DNA a trasmettere questo. Una propensione familiare, insomma. Sì, in qualche modo. Una propensione familiare. In qualche modo sì, quindi a me di quest'uomo colpisce questo che non solo ha scritto cose meravigliose ma anche con la sua vita stessa ha scritto un romanzo che poi è praticamente una saga familiare visto che inizia con il nonno. e quindi in questo senso ci vedo veramente un'incarrazione dell'arte, nel senso che lui stesso ha saputo farsi arte. Sì, no, no, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, intanto Sara vedo che ha problemi di connessione, eventualmente adesso la contatto... Spero di non avere detto io qualche cavolata che ha detto no, io me ne vado. No, 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 io queste cose non le posso sentire, via. Non penso, credo che abbia problemi di connessione, infatti è anche a costante saluta, ma comunque... Io sono rientrata, ci sono, credo che Sara avessi avuto lo stesso problema mio. Sara, sei con noi? No, non c'è, non c'è. Eh, devo averla detta grossa allora. Sadeva, allora cercavo di ricontattare subito. Eccola, ecco, è qui, seguibilità. No, no, Sara è tornata in mezzo a noi. Comunque passerei a questo punto a parlare con Sara, c'è un'opera che ti ha più colpito di questo grandissimo autore contemporaneo? Ma sì, direi che se dovessi sceglierne proprio una tra tutte, forse andrei poi su quella che credo abbia avuto insomma il più grande eco all'inizio della sua carriera, che è il vecchio che leggeva i romanzi d'amore. Io l'ho amato subito, arrivò in Italia all'inizio degli anni 90, ricordo di averlo letto all'università. Insomma, come dicevamo prima, è un autore che aveva talmente tanto da dire, talmente tanto da raccontare, che non poteva, immagino, non scrivere un grandissimo capolavoro, per quanto fosse anche un romanzo molto contenuto, molto breve. Credo che la grandezza di questa sua opera fosse proprio che in queste poche pagine è riuscito a trasferirci tantissimo. E' caduta Sara? Vabbè, allora possiamo risolvere così, la chiamo al cellulare e avvicino il telefono, il cellulare al microfono. Aspettate, forse ci sta riaggiungendo nuovamente qui su Twitter e su Radio Antidoto. Tra pochi secondi... No, no, l'unica che cade è Sara, che ora in questo momento ci ha raggiunto. Sara? Eccomi, eccomi, non so se mi... Eccomi, abbiate pazienza, non so cosa succede. No, tranquilla, tranquilla, hai un problema di tutti. Allora, cercherò di essere coincisa per vincere i tempi della mia connessione. Beh, il romanzo, il vecchio che leggeva romanzi d'amore, mi colpì moltissimo quando lo lessi, insomma, all'inizio degli anni 90, mi ricordo, insomma, ero all'università e ne rimasi un po' impigliata, ecco, forse un po' come lui, credo, quest'uomo che ha da raccontare anche nel suo romanzo, ovviamente, benché, ripeto, fossero pochissime, pochissime pagine, no? Veramente un 150 pagine, erano ricche di grandissime storie, sia di grande azione nel presente e grandissimi flashback nel passato. Continuate a sentirmi, sì, mi continui a sentire? Ah, perfetto. Ah, scusatemi, ok, perfetto. E quindi è una storia, beh, la storia è quella di Antonio Bolivar, che è un uomo che vive ai margini della foresta, che decide, in qualche modo, di rimanere in questa foresta, nonostante, insomma, lui non sia un nativo di lì, si era trasferito precedentemente con una moglie, con sua moglie, in questo luogo non particolarmente, come dire, ospitale, dove purtroppo la moglie poi perderà la vita e lui inizierà però ad avere un contatto con questa tribù indigena, che sono gli Shuar, che in realtà poi rispecchiano un momento della vita dello stesso Sepulveda, perché quando lui rifiuterà di andare a vivere in Svezia, di salvarsi probabilmente, andrà proprio a Chito, in Ecuador, dove avrà appunto una sorta di impatto ravvicinato con questa civiltà, che è una civiltà, una sorta di tribù indigena della foresta amazzonica, che ha però questa grande saggezza, questa grande capacità di rispettare la natura, perché conosce la natura, cioè come se la natura fosse un'entità altrettanto importante, che era un atteggiamento molto contrario invece a tutto quello che spesso si sentiva, e si sente tuttora, dell'egemonia degli uomini sulla natura stessa. E il protagonista di questo romanzo di fatto impara a vivere attraverso le leggi di questa tribù, quindi impara a capire la natura, a rispettare la natura, a usare la natura per essere un uomo migliore sostanzialmente. Vabbè, è una grande storia, una storia che ha un tempo iniziale breve, una storia di, diciamo, il tempo narrativo del presente è molto breve, e ricorda anche un po' il vecchio e il mare, questo rapporto strettissimo tra l'uomo e l'animale stesso, perché Antonio Bolivar dovrà in qualche modo sconfiggere un animale, che in questo caso è questo felino bellissimo, pazzesco, a cui hanno ucciso i cuccioli e che è arrabbiatissimo. E quindi c'è tutta questa storia iniziale, questa storia, diciamo, presente, in cui vede appunto l'evoluzione di questo sopito. Ci ha abbandonati nuovamente Sara, però adesso partiamo, così almeno potrà concludere il suo discorso, la sua recensione del primo romanzo di Sepulveda. Un attimo soltanto, gentili ascoltatori, scusate per questo intoppo, purtroppo Twitter, problemi di connessione vari, non permettono una trasmissione costante. Un attimo soltanto, che avvicino il cellulare al microfono, così Sara ci potrà rispondere via telefono. In questo momento risulta l'ineoccupata. Un attimo soltanto. che purtroppo non mi compare più nella trasmissione. Ok, sta squillando. Però mi ha staccato. Allora, a questo punto passerei a Costanza e poi magari con Sara concludiamo la discussione. Ah, ok, sta ritornando Sara. Sicuramente ha risolto i problemi di connessione e tra pochi secondi ci raggiungerà. No, niente, non riesce a connettersi. Va bene, io passerei a Costanza. Costanza, tu di quali opere vorresti parlare di questo grande autore? Ma avevo detto che io per competenza insomma avrei parlato delle favole e ecco, visto che menzionava gli animali, menzionava Moby Dick, credo avesse menzionato, no, sì, non mi ricordo che aveva menzionato Sara poco fa, ecco magari Sara è tornata, vuoi finire di parlare con lei? No, in questo momento... Perché non è tornata. Non è tornata. Allora, facciamo così. Tranquillamente. Perfetto, allora, mi riallaccio, avevo ascoltato nell'intervento di Sara una cosa e allora ecco magari parto da lì, capovolgo il mio intervento, diciamo volevo parlare prima della gabbianella ma poi adesso volevo spendere due parole per l'ultima fiaba pubblicata in Italia da Sepulveda che è storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. una storia attualissima in cui Sepulveda ha ribaltato il punto di vista, il punto di vista che è quello delle storie sulle balene, che è sempre il punto di vista dei balenieri, il punto di vista di un grande classico che è Moby Dick, riletto dalla parte della balena. Cosa dice il titolo? Raccontata da lei stessa. Ora, l'ambientalista Sepulveda come raccontava Desi ha lottato per tantissimi anni dai primissimi anni Ottanta al fianco di Greenpeace. Conosce bene la strage delle balene, conosce i balenieri, conosce quello che fanno in Giappone, conosce la Norvegia. Il primo aprile adesso, mentre il mondo si fermava per il coronavirus, la Norvegia invece riprendeva la caccia alle balene. Ci sono tutti gli anni, ci sono questi rapporti internazionali che dicono quante balene uccida la Norvegia, più di Islanda e Giappone messi insieme. Ma ora invece con questa favola uscita nel 2018, era proprio la balena per la prima volta a parlare con questa sua saggezza millenaria. Chiaramente, ricordiamo cosa diceva Moby Dick, ecco in Moby Dick la balena aveva questo valore simbolico, questo valore metaforico, per il puritano Melville era la lotta epica, c'era il bene e il male, questo senso dell'assoluto, dello sconosciuto all'uomo che era Moby Dick. Una balena metaforica, una balena che a cab voleva davvero distruggere, la balena voleva vendicarsi della balena. Cioè a un certo punto Starbuck gli dice desisti, desisti. E caduta anche la linea costanza. Siamo rimasti soli, che romantico. Nel frattempo sono riuscito a recuperare Sara con il cellulare. Sara, ci sei? Sì, ci sono. Su cellulare dovrei resistere. Sì, ok. Tu desi riesci a sentire Sara? Sì, la riesco a sentire, grazie. Allora a questo punto Sara concludi il tuo discorso sulla recensione del primo romanzo e poi nel frattempo recuperiamo Costanza. Come dicevo poi, la grande tematica che lui affronta è quella della solitudine. Questo è un uomo solo, che decide di rimanere solo, che vive in una capanna. Insomma, la tematica della solitudine è una tematica che pervade la narrativa anche di Sepulveda, intesa proprio come la solitudine, anche intesa come paura di tutti noi, di doverla gestire, di doverla vivere, a un certo punto. E ci sono poi, insomma, le tematiche, come dicevo, che si ritrovano poi nei grandi libri che lui ha sempre dichiarato ovviamente di aver, come dire, utilizzato un po' come fare, che erano appunto Momidiche, il vecchio e il mare, dove c'è questo rapporto fortissimo tra uomo e animale e poi tra uomo e foresta. Per cui lo stesso libro inizia con una deccia Sue Mendez, che era un uomo che appunto aveva combattuto per difendere la bellezza e la grandiosità della foresta che amava e ovviamente difenderla da tutti gli altri che erano ovviamente gli avventurieri, i coloni, che invece avevano questo modo di entrare gamba tesa, che purtroppo è una qualcosa che vediamo molto spesso e che è poi qualcosa che lo stesso ha sempre in qualche modo fatto un po' il suo sillo di battaglia all'essere un ecologista in qualche modo, anche un po' precursore di certi tempi, certe sue battaglie oggi ci sembrano ancora sono attualissime oggi nonostante lui le raccontasse, le vivesse soprattutto moltissimi anni fa. è un romanzo bellissimo la grandezza di questo romanzo sia nel fatto che in un'opera come dicevo all'inizio di davvero poche pagine è talmente intriso di cose da raccontare di avventura di grandi riflessioni di grandi descrizioni che credo che forse è proprio un grande autore che ha avuto anche una grande vita vissuta come la sua, una vita diciamoci anche un po' sudata dove le cose insomma non andavano quali mai visce e lui le complicava ecco le complicava ovviamente a ragione di un'idea politica e di un punto di ideologia in cui perdeva molto. Però è proprio sembra proprio suo ecco capisco perché in qualche modo c'è stato poi il romanzo che l'ha fatto conoscere forse in modo diciamo universale da lì in poi sono stati un successo dopo l'altro. Un romanzo che ricordo che amai molto quando appunto lo lessi all'inizio appena uscì. Sì vabbè devo dire che comunque sei stata nonostante le problematiche di connessione vabbè adesso abbiamo risolto comunque credo che dopo questa tua recensione molti andranno in libreria una volta che finirà il coronavirus a comprare questo libro e perché hai veramente fatto una bellissima recensione di questo di questo primo romanzo di questo romanzo d'esordio dell'autore contemporaneo che ci ha abbandonati purtroppo 14 giorni fa allora se per te non è un problema Sara staccherei con te e poi e richiamerei Costanza che anche lei ha problemi di connessione non riesce a connettersi qui sulla trasmissione di Twitter in modo tale che cercherò di alternarvi nel frattempo tu prova aspetta aspetta forse puoi rimanere in linea perché Costanza ha fatto nuovamente la richiesta per poter tornare in trasmissione tra poco ci raggiunge Costanza ci sei? Eccoci dove vi siete freddo sì sì la vedo che sta arrivando io sono qua dove dove io Costanza sarebbe opportuno se ricominciassi da cavo perché dopo un minuto un minuto e mezzo praticamente in ogni caso stai tranquilla perché ho recuperato Sara con il cellulare ho avvicinato il cellulare al microfono in modo tale che abbiamo risolto le problematiche di connessione di Sara io proprio sono andata ok va bene ci proviamo tu sei mancata per niente allora da questo ricominciamo sei arrivata sei arrivata a quando Starbust chiede a ACAB di desistere di desistere ecco sì va bene allora più o meno era finito parliamo della Gabbionella e il Gatto allora stavo dicendo la Gabbionella e il Gatto chiaramente la nostra la Gabbiota che abbiamo imparato ad amare tanto pubblicato per la prima volta in Italia nel 96 da Salani lo stesso anno di uscita in lingua originale e la storia di tutte le storie dicevo non è una favola ma è una parabola è una storia che ha in sé tutti tutti i temi cari a Sepulve dall'amore per la natura la solidarietà l'amicizia il coraggio aiutare chi è in difficoltà dobbiamo ecco dietro la leggerezza dei racconti di Sepulveda l'apparente leggerezza dei racconti di Sepulveda c'è una vita segnata dal dolore come ricordava appunto come ricordavate all'inizio ed è per questo che Sepulveda sa rendere con estrema semplicità queste storie che sono in realtà profondissime e dense ed ideali allora lì prometti che non mangerai l'uovo dice a Zorba la gabbiana che in ga finita in una pozza di petrolio in fin di vita e Sepulveda e Sepulveda riflette è molto facile accettare e amare chi è uguale a noi e invece è molto difficile con qualcuno che è diverso ecco un gatto se vede una gabbianella cosa fa? se la mangia e invece qui c'è l'attrazione dei diversi il gatto diventa il papà putativo diventa Zorba di questa gabbianella che si chiama Fortunata la cova la gabbianella pensa di essere la figlia la figlia del gatto e poi insomma c'è il climax vola solo chi osa farlo la fantastica frase di Zorba alla fine della storia Zorba Megolando dice questa cosa ho capito questa cosa ed è proprio così abbiamo bisogno il coraggio che ci aiuta a superare gli ostacoli con il coraggio con la tenacia si possono abbandonare si possono abbandonare le proprie insicurezze le proprie paure e spiccare il volo anche verso l'ignoto e appunto stavo ricordando che quando poi due anni dopo credo nel 98 scelte il film Sepulveda stesso doppiò il film nella parte del poeta che appunto era proprio lui e nella mia favola storia di Milo che è uscita nel 2018 in contemporanea con storia di una balena bianca raccontata da lei stessa l'ultima favola di Sepulveda in italiano come dicevo aveva ribaltato il punto di vista la favola che era pubblicata nella colonna delle Gabriele di Guanda dove sono pubblicate tutte le altre favole di Sepulveda ecco è una storia anche quella di tenacia protagonista il gatto Milo che è un gatto disabile gracilissimo non sa saltare quando corre rotola cammina zigzag il veterinario lo voleva uccidere invece Milo con la sua tenacia dimostra che qualsiasi ostacolo si può superare in uno dei primi capitoli c'è un incontro importantissimo con il gabbiano Virgilio l'anime ecologista della favola che appunto gli parla delle città e di come gli animali e gli uomini dovrebbero imparare a convivere piuttosto che appunto tutto quello che diciamo contro i gabbiani per esempio in una città come Roma eccetera e poi il gabbiano insegna insegna proprio al gatto Milo che non sa saltare insegna a saltare ogni volta che io porto finora ho visto circa 12.000 bambini più di 12.000 bambini delle scuole italiane portando la mia favola ogni volta appunto parlo di questa di questa ecco di di sepulvere della gabianella del gatto sono stata breve abbastanza ho due minuti per dire no 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 ma l'avevamo già detto insomma della storia della balena avevamo già parlato ecco a me piaceva citarla perché appunto è l'ultima è una storia estremamente attuale appunto stavo dicendo non so se era finito nell'intervento di prima o meno che mentre tutto il mondo è bloccato dal coronavirus la Norvegia ha ripreso ha ripreso imperterrita insomma la caccia alle balene e invece l'eredità di Sepulveda io credo grandissimo attivista per tantissimi anni dall'inizio degli anni 80 di Greenpeace ecco e anche con con questa sua ultima favola ci ha detto di dare ascolto all'ambiente ed è un insegnamento che soprattutto oggi dopo che dopo che il coronavirus ecco è stato scatenato dai nostri cattivi comportamenti possiamo portare nel cuore l'insegnamento ambientalista ambientalista di Sepulveda assolutamente sono d'accordissimo con te allora per quanto riguarda la prima parte quella dedicata al grandissimo autore Sepulveda che ci ha lasciati 14 giorni fa direi che è stata veramente una bella prima parte dove ognuno di voi ha cercato di ricordarlo al meglio ognuno di voi ovviamente ha voluto svelare alcuni aspetti alcuni particolari sia della vita sia delle opere che più lo hanno caratterizzato e credo proprio che i nostri gentilissimi ascoltatori possano anche grazie a voi tre possano aver apprezzato ancora di più questo grandissimo autore allora adesso direi di passare alla seconda parte quella in cui voi tre ci parlerete delle vostre ultime opere pubblicate inizierei da Desi Cardi e quindi spazio a te Desi per parlare della ragazza con la macchina da scrivere ricordo pubblicato con Fazzi Editore dici tutto beh allora innanzitutto è uscito il 20 febbraio e poi hanno chiuso le librerie però detto ciò nel frattempo la Spagna che era un po' più avanti era un po' più indietro col coronavirus fa uscire la traduzione del mio romanzo dell'anno scorso l'annusatrice di libri e chiudono le librerie quindi sto iniziando a pensare insomma di portare un po' rogni alle librerie conviene che ti fai qualche domanda eh sì 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 cercherò di cercherò di insomma di non so scrivere con della mucchina sotto mano comunque detto ciò la ragazza con la macchina da scrivere nella mia idea fa parte di una pentalogia sensoriale ovvero la mia idea era iniziale era quella di scrivere cinque racconti collegati tra loro da alcuni personaggi ma indipendenti tra loro un po' come nella Comedium Man di Balzac tanto per ispirarsi insomma qualcosa di e il primo racconto fu l'annusatrice di libri solo che poi mi sfuggì la mano e mi ritrovai con un romanzo piuttosto corposo e mi ritrovai con 400 pagine quindi diciamo che questo progetto è stato poi traslato su una pentalogia dei romanzi il primo appunto l'annusatrice di libri è una celebrazione della lettura come diciamo attività multisensoriale e infatti la protagonista è Adelina questa ragazzina che perde la capacità di leggere ma scopre di poterlo fare con l'olfatto nella ragazza con la macchina da scrivere io invece celebro la scrittura attraverso il tatto ma non la scrittura in senso diciamo creativo emotivo proprio in senso fisico ecco perché ho scelto come protagonista non una scrittrice un'autrice ma una dattilografa una che le storie non le scrive semmai le trascrive e lo fa proprio con il corpo con le dita e poi a un certo punto in qualche modo ricostruirà anche la sua stessa storia grazie alla memoria tattile che sembra una cosa tanto stratta ma la memoria tattile è poi quella che ci fa ricordare il pin del cellulare quando ce lo dimentichiamo quando siamo lì che ragioniamo su che numero è prendiamo il cellulare in mano e il pollice va da solo comunque la storia si svolge su due piani temporali troviamo Dalia negli anni 90 settantenne che ha avuto un piccolo quello che lei definisce un piccolo incidente cioè ha avuto un leggero ictus che le ha tolto i due mesi precedenti di memoria lei però sa che in quei due mesi è successo qualcosa di importante per lei e attraverso una serie di tracce che in qualche modo è la se stessa di prima di prima del piccolo incidente ad averle lasciato cerca di ricostruirla e in questo sarà determinante appunto la memoria tattile che si esprimerà sui tasti della sua Olivetti MP1 rossa che è la macchina da scrivere che l'accompagna sin dal fine degli anni 30 nel suo mestiere di dattilografa e l'altro piano temporale che è quello della vita di Dalia da giovane negli anni 40 che la vede attraversare la guerra la vede 17enne dattilografa già da anni la vede innamorata da uno scrittore di romanzi d'appendice che negli anni 40 era un genere ormai in assoluto declino però ancora diciamo molto comune e quindi pian piano Dalia recupera la sua memoria attraverso anche la memoria storica la memoria del libro ambientato prevalentemente nella seconda guerra mondiale perfetto vabbè spero vivamente che quando le librerie riapriranno allora tutti tutti gli ascoltatori possano andare a correre a prendere almeno questi due primi libri e non vediamo l'ora di leggere anche gli altri di poter avere in mano anche gli altri sì il prossimo sarà sull'udito ah perfetto ok allora prima di passare alla presentazione della giusta distanza di Sara Rattaro leggo velocemente alcuni messaggi in chat allora vabbè mi fanno i complimenti perché ho trovato tre splendidi scrittrici come ospiti quindi vabbè i complimenti ovviamente vanno a voi tre io sono semplicemente un ragazzo che vuole dare tanto spazio agli autori anche a chi ha profili culturali e vuole creare vuole creare condivisione culturale poi fanno i complimenti a Costanza per quanto riguarda la tua riflessione anche per Sara dei bellissimi complimenti e poi scrivono anche per Desi per fortuna che ti sfida la mano in modo tale che tu abbia veramente bel materiale per poterci deliziare nel corso dei prossimi anni diciamo che la sintesi è un dono a cui qualunque scrittore aspira perché come prima che si parlava del vecchio che leggeva romanzi d'amore quando sento di un romanzo scritto di 150 pagine ha già tutta la mia ammirazione perché io veramente a un certo punto vengo presa da un folletto che mi fa continuare a scrivere e non sempre è positivo vabbè ma comunque giustamente qualsiasi tipologia di romanzo è importante la tematica più che altro la lunghezza almeno io sono sì certo allora a questo punto direi di passare a Sara e alla presentazione del romanzo La giusta distanza ripeto ricordo pubblicato con Sperling e Caffer sempre in 2020 giusto? sì siamo uccide il gennaio per fortuna visto quello che è successo abbiamo avuto un minimo di respiro normale di lancio normale prima che crollasse tutto ecco sì eh dici tutto parlaci parlaci di questo romanzo la giusta distanza è una lunga storia d'amore di due ragazzi normali che si chiamano Aurora e Luca sono due lei ha quasi intorno ai 40 lui intorno ai 50 e sono già insieme da più di 20 anni e sono arrivati a un punto della loro unione in cui devono capire se è necessario è fondamentale o importante salvare questo matrimonio come forse avrebbero fatto i nostri genitori i nostri nonni e quelli che riuscivano a salvare le grandi storie d'amore o se invece oggi è possibile lasciare andare per andare a cercare la felicità da qualche altra parte e quindi legittimamente cercarsi il cosiddetto pianobino e quindi è una storia che riguarda una generazione di adulti di oggi che almeno una volta nella vita si sono chiesti ma come facevano i nostri nonni a salvare i loro matrimoni ad andare avanti per così tanti anni e insomma riuscire a consolidare qualcosa mentre noi siamo una generazione che sembra sempre un po' pronta a ripartire non sempre in partenza ecco in realtà non c'è una risposta ovviamente a questa domanda e forse è anche assolutamente molto sciocco mettere a confronto due generazioni che per quanto non siano così lontane in realtà vivono e vedono una grande separazione sia in quello che è la comunicazione sia in quello che è il concetto di famiglia e quindi questi due personaggi dovranno cercare di capire che cosa fare il romanzo inizia con Luca è su un aereo sta andando in Germania per un colloquio di lavoro importante potrebbe essere l'occasione giusta per andare dall'altra parte dell'Europa appunto a fare quella carriera anche l'ultima occasione per avere un riconoscimento lavorativo così importante ma forse potrebbe anche essere come dire l'occasione anche per lasciare Aurora che è una donna che lui ha amato moltissimo ma è ancora una donna molto difficile è una donna che lui ha conosciuto quando era giovanissima lei stava finendo le scuole superiori quando si sono innamorati e lei è rimasta senza la mamma poco dopo e in qualche modo avendo un papà che non aveva intenzione di occuparsi di lei lui l'ha preso tra le braccia e se ne è occupato e quindi questa ragazza era troppo giovane per un grande dolore ma era anche troppo giovane per fare la moglie e nel frattempo è cresciuta quindi è cresciuta cronologicamente cioè in età ma graficamente ma sembra a volte non essere cresciuta sembra un po' bloccata dal punto di vista emotivo sentimentale e Luca invece è un ragazzo più costruttivo più risolto sotto certi punti di vista che ha dato tanto per questo matrimonio forse è arrivato il momento di accedere a quel lavoro e di utilizzare questa situazione questa scappatoria per in qualche modo lasciare anche andare il suo matrimonio il problema è che quell'aereo inizia a traballare e le office dicono che bisogna tornare indietro perché c'è qualcosa che non va e quando Luca capirà quella situazione sentirà passare la vita davanti non potrà chiamare nessuno non saprà esattamente che cosa potrebbe succedere per quanto siano pochissimi minuti di paura sono intensi e particolarmente pericolosi quando toccherà terra capirà qual è la decisione della vita da fare perché quando sei lassù e pensi di poter morire in realtà pensi alla vita e pensi a tutte quelle cose che forse ci vediamo un po' troppo poco dove sono chi sono era questa la vita che volevo sono arrivato dove ho realizzato quello che sognavo mi piaccio sono io sono veramente io questa persona ecco allora forse lui si sveglia ecco in questo momento un po' turbolento e passerà una focosissima notte d'amore però perché perché quando si si salva da uno scappato pericolo forse bisogna fare una delle cose più belle della vita cioè omaggiare la vita e quindi lui con una sconosciuta che avrà vissuto la stessa turbolenza che insieme vivranno questa notte d'amore che in qualche modo spiegherà tante cose sul concetto di vita sul fatto che la vita poi è più questo e adesso che non tutto quello che pensiamo che dovremmo fare nei prossimi momenti e nei prossimi giorni ecco ovviamente non vi dico che cosa deciderò di fare non vi dico perché Aurora è così è così complessa è così affascinante anche e soprattutto non vi racconto i segreti dei personali secondo e a questo giro mi sono riusciti benino ecco va benissimo grazie Sara per gli ottimi spunti grazie a voi no grazie a te per gli ottimi spunti per la tua il tuo breve riassunto delle parti iniziali del tuo romanzo la giusta distanza e grazie anche per queste tematiche familiari e a questo punto se gli ascoltatori fossero interessati alla giusta distanza ovviamente quando riapriranno le varie librerie ovviamente possono tranquillamente andarlo a comprare allora passerei adesso alla presentazione da parte di Costanza Rizzacasa d'Orsogna del suo romanzo Non superare le cose consigliate pubblicate dalla casa editrice Guanda e anche tu Costanza sei uscita a febbraio 2020 sono uscita a gennaio il 30 gennaio 30 gennaio fine gennaio ok il 30 gennaio e sì che cosa dire dunque allora è un romanzo di è un romanzo familiare di formazione tra gli anni 70 e oggi tra gli Stati Uniti e l'Italia o l'Italia e gli Stati Uniti e poi l'Italia di nuovo e parzialmente audiografico ma poco molto poco poco parzialmente diciamo così ho prestato alla protagonista Matilde il mio vissuto di il mio vissuto con i disturbi alimentari io ne ho trassati qualcuno e quindi racconto qui la storia di questa di questa di questa bambina che ha otto anni quando comincia la storia e lei ha iniziato a ingrassare verso i sei anni e ecco Annette ciao Annette e ha iniziato a ingrassare verso i sei anni e quando ingrassa la mamma che è bulimica per per farla dimagrire pensando di farla dimagrire le dà i lassativi ecco questa è la parte insomma più autobiografica del romanzo è quello che ho vissuto quando ero piccolina mia mamma apparteneva alla cosiddetta generazione farmaceutica dove dove si prendevano farmaci di qualunque tipo e si davano anche i bambini senza senza pensarci senza tanto pensarci è così che Matilde diventa sviluppa una dipendenza da questi da questi da questi da questi lassativi e se la porterà dietro per tutta la vita e ci saranno due ecco due principi della sua vita due cardini uno è il pane di cui Matilde è davvero innamorata dell'unica cosa che le dà amore secondo lei perché la sua fame di tutto Matilde è una fame di tutto in realtà è una fame d'amore e poi appunto questo lassativo che sarà il suo migliore amico lei poi a un certo punto va negli Stati Uniti dove mentre in Italia ecco deve girare per le farmacie e praticamente sperare che glielo diano perché poi appunto ti chiedono ma sei sicura ma per chi è le fanno un sacco di domande poi quando invece va negli Stati Uniti bonanza nei supermercati si vendono cento compresse e costano anche poco e quindi lei e quindi lei ecco così è aiutata nel suo nel suo abuso di farmaci che avrà per tutta la vita poi ecco Matilde avrà tante avventure e disavventure anche amorose e la costante sarà appunto che lei cade diciamo in queste storie abbastanza sbagliate non tutti gli uomini sono malvagi per carità sono semplicemente tanti sono sbagliati e e forse Matilde un po' si riesce a scegliere anche così perché così può tornare dal pane che è l'unica costante della sua vita l'unica cosa che le ha dato amore lei dice e lei appunto all'inizio della storia diceva il pane non tradisce se sai dove prenderlo e quindi infatti Matilde mangerà sempre il pane ma solo il pane è buono lei si circonda lei vuole solo le cose buone e poi purtroppo dopo i 40 anni dopo una storia invece con una storia con una persona veramente malvagia Matilde svilupperà un altro disturbo alimentare dopo essere stata appunto bulimica anoressica per tutta la vita questo disturbo alimentare delle abbuffate incontrollate che in realtà ecco in inglese il disturbo alimentare di cui non si parla mai ma di cui soffrono più persone in assoluto nel mondo molto più di anoressia e bulimia insieme lei svilupperà questo disturbo e siccome è praticamente impossibile avere questo disturbo senza diventare obesi per la prima volta Matilde si troverà di fronte alla discriminazione verso le persone obese e quindi ecco è un un dolore sopra un dolore io volevo tentare di essere innanzitutto autentica non necessariamente con aneddoti reali della mia vita ma autentica nel senso che è proprio così parliamo di abuso di lassativi raccontiamo quello che succede parliamo di anoressia di bulimia raccontiamo quello che succede se una persona vomita tante volte al giorno Matilde vive appunto in questa famiglia dove la mamma vomita davanti a lei vomita tutte le volte che mangia stramanga e poi va a vomitare e i lassativi sono lì sulla mensola della cucina sono proprio in vista e nessuno si pone il problema di questi bambini che guardano la mamma vomitare che guardano la mamma appunto che corre in bagno in casa nel bagno non ci sono porte nessuno si preoccupa di come crescono questi bambini con che modello crescono questi bambini e perché insomma è un po' così perché di tante cose prima non se ne parlava e anche la mamma di Matilde è una persona fortemente disturbata sta molto male lei stessa non si rende conto di quello che di quello che sta poi facendo appunto rigadere sui suoi figli e quindi l'abuso cui spinge la figlia è quello che lei stessa è quello che lei stessa avete fatto è quello che lei stessa appunto si da adolescenza poi si prendevano altre cose cose ancora peggiori e quindi in parte insomma è anche un romanzo sulle dipendenze poi un romanzo sul perfezionismo il perfezionismo che ci porta a fare a fare tutta una serie di scelte è un romanzo che non è lineare è scritto un po' come un flusso di coscienza è molto 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 forte che altro dire spero che la leggerete grazie anche a te Costanza devo dire che anche il tuo romanzo propone degli spunti di riflessione poi veramente interessante anche la parte autobiografica che hai voluto inserire nella tua opera e spero vivamente che anche per te i nostri ascoltatori possano possano dedicare un acquisto e possano andare in libreria per comprare e non superare le dosi consigliate ovviamente quando il coronavirus ce lo permetterà allora leggiamo è molto coraggiosa come scelta narrativa cioè io sicuramente no perché comunque ci sono abusi e abusi di farmaci ci sono quelli più poetici diciamo e più eroici quelli che la letteratura e il cinema hanno già sdoganato come l'abuso di antidolorifici per esempio o l'abuso di ansiolitici parlare di abuso di lassativi che è assolutamente sacrosanto perché comunque io non so quante persone ne soffrono ma mi ricordo che da giovane ce n'erano tante quando ero ragazzina che abusavano e quindi immagino che adesso sia lo stesso è veramente molto coraggioso perché narrativamente è difficile quindi complimentoni io lo leggerò senz'altro grazie onoratissima sì diciamo che è una storia che come posso dire evidentemente avevo dentro e avevo dentro questa cosa ha segnato tutta la mia vita poi anche se le esperienze non coincidono sempre quelle mie di Matilde insomma siamo molto vicine nell'infanzia poi anche dopo come abbiamo affrontato il disturbo nell'ultima parte della vita insomma ci distacchiamo però ecco si evidentemente era una cosa che avevo dentro e che poi alla fine ho visto che mi premeva a raccontare sono un po' stata travolta dal fervore del racconto prima non pensavo che interessasse a nessuno poi quando mi sono messa a scrivere ho scritto 75 pagine per me in pochi giorni che per me è una cosa impossibile e sono più o meno così esattamente come sono venute fuori e poi mi sono resa conto che era una cosa a cui tenevo ecco perché poi ci ho fatto altre cose intorno tengo questa rubrica poi sai le cose nella vita sono io sto già pensando al prossimo romanzo che non ha niente a che fare su questo però ecco queste ho detto ho dato a questo romanzo una specie di una specie di una parte della mia vita ecco e lì non sono cose che poi ritornano che sono possibili in tutte le cose che scriviamo ecco Costanza ti ha cambiato in qualche modo il poterto raccontare non so se posso rispondere a questa domanda sì sì sicuramente sicuramente mi sentivo pensavo di essere una persona molto più debole prima ed evidentemente il ruolo il fatto che il fatto che ecco il ruolo che mi ha dato questo romanzo sicuramente sicuramente mi ha cambiata per esempio adesso dicevo sempre l'isolamento l'isolamento che è il il più grande nemico dei disturbi alimentari io avevo questo terrore dopo essermi chiusa in casa per tre anni quando ero diventata obesa ero veramente spaventata in questo isolamento da coronavirus di ricadere nel disturbo invece l'avevo scritto anche l'altro giorno proprio su Twitter ho detto sì sì anch'io ho stramangiato come tutti però non sono caduta in quel disturbo mentale che avevo prima ecco in qualche modo sono molto più forte oggi e probabilmente sono molto più forte oggi per la consapevolezza che ho preso e quindi anche attraverso questo romanzo insomma che poi alla fine ha aiutato me e secondo me le cose sono così se lo scrivi per te poi può essere anche per gli altri se aiuta te poi può aiutare anche gli altri non può esserci invece l'altra cosa ecco è stata anche un po' una scrittura sì sì no si capisce è stata anche un po' una scrittura terapeutica hai gettato tutto quello che avevi dentro alla fine il risultato credo che sia veramente ottimo allora in chat vedo tantissimi complimenti Antonio Salsano il grande amico che insieme a Salvatore Bezzaino e Michele Girardi conduce Radio Poesia ha scritto storie interessantissime poi Giorgia di Scrivoarte ha scritto splendide presentazioni poi Elena di Scrivoarte ha scritto esperienza davvero forte difficile anche da raccontare credo che si riferisca a Costanza poi sempre Giorgia ha scritto bellissimi romanzi a sfondo psicologico e autobiografico continuano ad esserci complimenti per tutte e tre complimenti davvero a tutte e tre poi Daria ieri è stata ospite di Radio Poesia ha scritto o una ha scritto l'ha raccontato così tanta lucidità che ha fatto venire voglia di leggerlo poi vabbè credo che la domanda sì tu hai già risposto Costanza ti ha cambiato in qualche modo il poterlo raccontare sì già hai risposto e comunque ci sono veramente tantissimi tantissimi complimenti per voi complimenti a tutte le autrici complimenti per Costanza sia per Desi che per Sara perfetto complimenti anche a te Francesco che hai creato il salottino sì grazie Francesco sei stato grazie figuratevi figuratevi anzi sono veramente orgoglioso di avervi avuto come ospiti prima di passare ai saluti finali e ringraziamenti però vorrei leggere tre poesie che del contest le tre ospiti non lo sapevano è stata un'improvvisata di oggi pomeriggio pensata con Salvatore Belzaino di Radio Poesia di Poesia Italia il suo profilo Twitter abbiamo avviato un contest oggi pomeriggio e a questo punto prima dei saluti leggerei le tre le tre poesie che ci hanno trascritto in modo tale da dare spazio anche ai nostri ascoltatori allora lettore seriale questo è il nome dell'autore il nickname ha scritto la caduta del silenzio con la morte del giorno s'affaccia la notte che alliete il mio cuore sin nelle radici scorgo in lontananza delle finestre illuminate aperte in altri angoli di cielo dove vanno da stelle in una via lattea di musiche e parole il silenzio come una pignatta viene rotto e cadendo si trasforma in amore colorando il suo tragitto di mille sfumature sui tetti nelle case sulla prima e seconda persona del verbo mentre due cuori si accorgono di non essersi mai incontrati ed impariamo di nuovo a piangere ad abbracciarci davvero a baciarci anche con la mente oltre che con le labbra così finisce la notte di fronte al mostrarsi dell'azzurro un altro giorno per condividere l'esistenza beh devo dire veramente molto bella credo che siete d'accordo con me bellissima bellissima molto locante sì veramente una bella una bella poesia un messaggio di speranza per tutti coloro che in questo periodo sono in grave difficoltà economica e hanno anche problemi per quanto riguarda il coronavirus ed è giusto che anche con queste poesie possiamo dare speranza possiamo lanciare messaggi di speranza per i nostri ascoltatori che magari si stanno facendo a cui stiamo facendo compagnia seconda poesia di Lidia Fera il titolo è Provenza color lavanda tra fiori e profumi antica e moderna attraversata da una brezza leggera sempre che fa mormorare un mare seminato in terra generosa storica meta di erranti di futuro punto fermo ecco la fantasia diviene realtà nuova patria affinare tra i glori anche gioie i ricordi giunti da lontano vissuti col cuore a metà tra passato e presente viaggiando su quel ponte immaginario per vedere dopo tanto tempo la prima metà del cuore lasciata e ritornare poi da quella rimasta in Provenza beh anche questa devo dire è molto molto bella ed intensa passiamo all'ultima di Opisso Chiara che l'ho vista comunque tra gli ascoltatori si si ha detto che ha il libro di Daisy sul comodino e volevo dire che ce l'ho anch'io non ho comodini io tengo tutti i miei libri sul libro per terra i libri sono il comodino la pila di libri esatto una pila di libri per mettere lampadaria per mettere la lampada su io essendo ipovedente non vedo le scritte che passano poi mi guarderò tutti i commenti e vi risponderò io l'avevo scritto in risposta a questa a questa persona che ci ha scritto appunto io l'ho scritto anch'io ce l'ho il libro di Daisy sul comodino solo che io non ho comodino e ce l'ho sul letto allora la poesia di Chiara ovvero Opisso Chiara recita così la mia lampada frontale ad illuminarci i piedi con te accanto né sassi né radici sono d'inciampo schiviamo alberi frondosi seguendo le curve del sentiero come ballerini fuori tempo ti bacio lo sbaffo di dentifricio all'angolo segreto del ristoro il tuo calore mi abbraccia mentre l'aurora avanza incartando le ultime stelle l'ho intitolata cosa all'alba veramente anche questa una bellissima poesia credo che sia un po' l'inno per i runners che dal 4 di maggio potranno un po' tornare a correre potranno dedicarsi agli allenamenti ora con il nuovo decreto ministeriale avremo la fase 2 speriamo che ci possano essere risultati ottimi e numeri sempre minori per quanto riguarda i contagi e le morti ok siamo arrivati ai saluti finali gentilissime ospiti ora passerò la parola ad ognuna di voi per poterci salutare per poter salutare i vari ascoltatori che sono stati con noi per questa intensa e meravigliosa ora passerei ai saluti a partire da Desi io vi saluto sono molto grata a Francesco per l'invito sono molto grata a internet che non ha fatto cadere la connessione e a tutti voi che ci avete seguito grazie mille e grazie alle mie colleghe ospiti per essere stati con me questa serata Sara Sara Rattaro tocca a te io un ringraziamento speciale a te alle colleghe a tutti gli ascoltatori mi dispiace per il collegamento un po' ballerino speriamo di rincontrarci sì certo assolutamente sarebbe molto bello grazie ancora no comunque stai tranquilla per quanto riguarda il collegamento ballerino poi abbiamo risolto con il cellulare messo accanto al microfono va benissimo così tanto la tua voce i nostri ascoltatori l'hanno sentita in ogni caso perché ho avuto alcuni riscontri mi hanno mandato dei messaggi e ti hanno fatto i complimenti la tua voce è arrivata lo stesso nelle case dei nostri ascoltatori mentre toccherebbe adesso a Costanza Rizzacasa d'Orstonia e anche io ringrazio Francesco e poi tutte le persone che hanno ascoltato e hanno mandato un sacco di messaggi Enrico Annette scrivo arte Daria Eleonora Vanessa insomma qui adesso scorrendo di tutti sono tantissimi Chiara Giuliano eccetera eccetera grazie davvero a tutti quanti e niente queste serate sono molto belle facciamone ancora sì sono assolutamente d'accordo con voi ovviamente sono orgogliosissimo di avervi avuto come ospiti avete arricchito con la vostra esperienza di scrittrici con le vostre idee riguardanti Sepulveda che purtroppo ci ha lasciati quattordici giorni fa e credo che con i vostri pensieri con i vostri ricordi i nostri ascoltatori potranno assolutamente recuperare i libri di questo grandissimo autore Luis Sepulveda che ci ha lasciati purtroppo quattordici giorni fa ovviamente nella seconda parte avete dedicato tutti voi stesse tutte voi stesse per poter descrivere farci amare un po' con gli incipit dei vostri dei vostri romanzi delle vostre ultime opere pubblicate e veramente avete arricchito questa puntata spero che i nostri ascoltatori possano correre al più presto in libreria quando il coronavirus ce lo permetterà per poter acquistare ma si può si può già si può già in molti posti si può andare e nei posti che e nei posti che non si può andare si può ordinare via internet esatto no ma poi ci sono anche molte librerie che consegnano sì sì esatto ci sono i domicili cari ascoltatori se volete già da domani mattina stessa andate su andate su Amazon oppure vedete la libreria più vicina magari partire dal 4 maggio a cercare le librerie più vicine e così potrete acquistare queste bellissime opere che le nostre le nostre ospiti hanno potuto un po' raccontarci un po' descrivere grazie ancora ragazze grazie ancora gentilissimi ospiti sono stato veramente contento di questa di questa puntata e a questo punto potremmo anche più avanti anche nei prossimi mesi risentirci con altre puntate se sempre voi volete certo grazie Francesco va benissimo allora carissimi ascoltatori siamo giunti alla conclusione di questa quarta puntata di Bibliofili grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alla prossima ciao Daisy ciao Sara ciao ciao a tutti grazie mille grazie mille buonanotte ciao buonanotte a tutti